... Mi sa che si era interrotta la diretta Mi dispiace, non so perché Non so perché Riprendiamo da dove avevamo lasciato il push up Ok? Push up Abbiamo detto Un pezzo in mezzo e com'è chi? Ancora Un meno 4 Un meno 3 Un meno 2 Alla gamba ragazzi Qui appoggio Abbiamo in protezione di come Allora, colonna lunghe forte Mi voglio sopra le mie spalle Ok Rimango E qui Sollevo Il tallone Mantenendo il punto fermo fermo Anche anche sotto rivolto a terra Tutto il punto fermo Tutto il punto fermo Soperto 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 Rimango E mi preparo per l'ultimo lavoro Che voglio Vomito e il ginocchio in avvicinamento due due ancora quattro ancora tre ancora due rimani tre due uno stop tutto da ripare fase robita yes ci siamo? tutto da ripare quindi tu stai il tuo calcio ancora sei pronto tu in là ti mangio ancora adesso passo avanti con la destra tocca con il piede sinistro dietro per due volte tutto quello che abbiamo fatto prima qui a fondo ancora vai vai più di più ragazzi scivoliamo one two three e tocca one two three set qua provate a ripartire un set yes ancora doppio doppio passo avanti stretto più indietro yes bacino al basso indietro meno quattro meno tre pronto a scivolare quattro tre due uno vai ultimo giro all'inizio go bam due volte ancora vola Qui, tocca per tre, qua, appogno, metto alto, spalle, notare le orecchie, yes, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1, Yes. Yes. And go. E tappetino. Cominciate a dribbolo. Squat due due. Allontare i piedi. Sono più divaricati. E la grandezza delle tue anche. Due due. Porta il bacino in basso indietro. Guarda la roba. Continua. Set. Seda l'addome. Cominciamo la pancia. Adesso per contratto. Yes. Ragazzi. Tre veloci. Tre. Due. Bacino in basso indietro. Sull'ultimo. Due secondi. E risalvo. Tre. Due. Uno. Vai giù. Uno, due. Risalvo. Due. 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 Tre. Stop. Stop. Salvo. Ultimo giro. Due. Qui. Allontano la gamba. E ci fermate una punta. Verso la parte laterale della tua stampa. Ok? Qui. Affonda. Forza il giusto avanti. Forza il gomito al giusto. Affondo. E qui. Alzata al vento. Tilata. Al vento. Vai. Serralo bene con la pancia. Ragazzi veloci. Otto. Sette. Sei. Cinque. Benissimo. Piega e ti stegna il ginocchio. Ultimo. Stop. Passo. Tutto dall'altra parte. Escarota la punta del piede. Questo è. L'altro piede. Spalla almeno. Due. Pustatuta fuori. Spalle in basso. Indietro. Piega il ginocchio. Vieni avanti con il busto. Scendo. Stop. Ragazzi. Veloce. Piego e ti stendo. Ginocchio. L'altra gamba resta distetta. Vai, vai. Gli ultimi quattro. Quattro. Tre. Due. Ottimo. Chiudi le ginocchia. Posizione di squat. Quindi i talloni più ampi dei tuoi piatti. Qui. Di nuovo il pezzo sollevato. Tirata al vento. Sali. Con i giochi al soffitto. Ci sei. Su e giù. Ragazzi siamo pronti? Aggiungo su. E spingo. Su. Movimento veloce. Vogliamo un lavoro cardio. Buono. Gli ultimi ora. Otto. Boniti al soffitto. Spalle e lontane delle orecchie. un po' di spalle. Un po' di spalle. Un po' di spalle. Due. Buono. Qui. Talloni sotto i piatti. Scendi. E stacca. Fai scorrere i tuoi pesi lungo le cosce e lungo le gambe. E stacca. ginocchia ferme yes ci siamo ragazzi aggiungiamo un rematore qui solo uno e scatto solo un rematore gomito super alto vicino alle costole ancora uno quattro espira e contrai gluteo ancora due l'ultimo giro quello vi diamo ok ragazzi qui attena push up lavoro per lato destro dai ci siamo rimasto qui mani anche a fondo con una fruta di peggio sulle ginocchia schegli tu tocca il pezzo il pezzo e i gomiti e per salvo fate lo passare dai piedi yes quanto di più arrivati resto buono qui in posizione di over colonna colonna con le porte controlla fortissima tutti i piedi cura dei piedi in linea più sul piano alternativa la porta sulle ginocchia ragazzi risalzo mantengo il bacino fermo e stendo una gamba 3 2 yes go schegla l'addome controlla posizione di corretta di questo e quando ci sei rompe il bacino 8 7 6 avvicina ginocchio il gomito stop si ok scrivetemi come va terza fase erotica respira se vuoi previ su step yes due 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 e qui un passo avanti yes scuota 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 giù mantieni sempre il bacino basso ginocchia piegate fai un passo laterale progetto 4 3 2 top 4 3 2 top ancora 5 6 4 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 10 10 10 11 Vieni avanti, 4, ancora, meno 4, 3, 2, si scorre, 4, 3, 2, topo, 4, 3, 2, tocca. Gusta, ultimo giro, doppio round, presi nocchia, cambia, si va, go, go, meno 4, meno 3, scivola, 4, 3, 2, topo, ancora. Bello, il tappetino. Ragazzi ci siamo? Abbottiamo dietro, un po' basso indietro, dobbiamo avvicinare il ginocchio della gamba dietro. A terra, scendo, ancora, go! Fetto super alto, schiena super dritta. L'ultima volta è così, yes, ti fermi, porti i doni che è giusto, palloni sotto i piatti, estremi, con una spinta al soffitto, le due braccia, spinta in alto. Fai tornare sempre, i doni che è giusto, ci siamo? Io dico di sì! Ancora, vai, 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 vai sollevato. I pesi si guasano. Qui. Aperture vettoride posteriore. Spallano per le orecchie. I orecchie su questi confronti. Ragazzi ci siamo? Andiamo veloce. 8, 7, 6. Sera l'addome. Scatola la colonna. Ancora, ancora. Yes. E quello. Meno 4, meno 3. Buono. Questo rimane per dopo eh. Subi con te. Ragazzi. Ragazzi. Andiamo in side hover. Vomito sotto la nostra spana. Ginocchio sotto piegato. Ok? Qui stacchi il bianco da terra. Porti il braccio oltre la testa. Stacca il piede. Side plank. Questo. Avvicini. Il tuo vomito al ginocchio. Vai vai. E quello. Buono. Questo. Qui ce lo chiamo. Avambraccio contro avambraccio. Si torna in orecchie. Spallano in orecchie. Si torna 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 in orecchie. E qui. E si tendi verso di me. E tieni qui di poco giù con le ampie a terra. Voto dall'altra parte. Scendi. Fai una rotazione. Da hover. At side hover. giù buono qui sentiamo questo puoi fare accogliati sulle città che ha in tutto l'esercizio giù giù quando vieni prendi il telefonino seguiti ultimini e stop dobbiamo notare e fare tutto nell'altra parte side cover comito sotto la spalla gamba tutta piegata stacca il fianco da terra forse il braccio la testa faccio il piede avvicini vomito ginocchio sorridi ancora dai dai ci siamo ultimi quattro quattro tre due ragazzi transizione in hover qui avabracco contro avabracco verso di me e qui fra le nove vuoto dall'altra parte vai su giù e ruota e ritorna e ritorna vicino vai 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 devi mantenere le spalle lontane dall'erecchia il bacino sempre spinto in linea con le tue spalle ok bacino e spalle non si sta lineando non ci sono altre linee vai yes l'ultimo giro tutto da rifare ultimo giro pronti ultimo giro il migliore ci siamo ragazzi si tutto da rifare l'ultimo giro boost step calcio tre due si va spinto spinto ultimo ultimo vieni avanti tre volte spinto la capa dentro yes squat a fondo squat a fondo fai un bel passo laterale senti sempre il bacino basso quattro tre due occhi a scivolare quattro tre due uno ehi hai lontano pesca 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 Ancora, tieni davanti col giusto, di lato, 4, 3, 2, 8, ultimo giro Non piolea E lato, tieni davanti Squat, ancora, ancora, ancora Ancora, tieni, scimolo, 4, 3, 2, topo Ancora, tieni, scimolo, 4, 3, 2, topo Ancora, teni, scimolo, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, via Vieni! Ragazzi ci siamo! Oggetto! Mani! Non li prendete! Talloni sotto i piatti! Spirginato! E piedi giù! Spingo! Ragazzi ora ci siamo! Di prozze! Spingo! Yes! Ancora! Si va! Non ti fermare! Gli ultimi otto! Sei! Quattro! Tre! E stop! Porta il busto avanti! I pesi si guardano! E piedi! Sali! Sali! Qui! Aperture! Vettorite posteriore! Mantieni la discesa delle braccia! Ok! Serra l'addome! Veloce! E otto! Sette! Sette! Cinque! Andiamo ragazzi! Ottimo! Quattro! Tre! Due! Benissimo! Si state! Subito giù! Su un piano! 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 Sotto la spalla! Ginocchio piegato! Ginocchio sopra piegato! Stacca il fianco! Braccio oltre la testa! Qui! Avvicina lontana! Ci siamo! Sette! Wuh! Eh! Ci sono quattro ancora! Quattro! Tre! Due! Ragazzi pronti a capire tutto? Andiamo! Cercati! Avambraccio contro avambraccio! Scegli tutto per mantenere l'appoggio! Vieni! Inside! Over! Vieni! 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 Guardate dentro il bacino! Sempre in linee con le spalle! Non ci sono altre curve e altre linee! Solo un asse da spiro! Te! Formando dalle tue schiena! E dalle tue cose! Yes! Vieni! Spalla non ferma le orecchie! Ragazzi! Solo quattro! Scegli! Tre! Scegli! Due! Scegli! Uno! Buono! Si basso qui! E dalle tue cose! Pronto! Scegli! Sotto alla spalla! Quindi l'occhio piegato! Stacca il bianco! Vai! Ci siamo! Scegli! Più di me! Scegli! Scegli! Sette! Sei! Stritta forte! Porta! Le tue costole! Pescole anche! Pescole! Uuuu! Uuuu! Ehi 들ate qualcuno di più! Ok! E qui! Ruota! Abbracci contro la braccia! Messo di me! Ritorna! Abbracci contro la braccia! Side hover dall'altra parte. Muota. Ricorda. So. E giù. Qui. Scegli. Meno 4. E cambio. Meno 3. Spanne l'ottabile le orecchie. Schiena super dritta. Qui. Tanta cosa ragazzi. Sentiamo. Vi dite com'è andata. Quanto lo fate. Questo allenamento. Allora. A chiudere un po' più spessi. Con le mani. Fingi avanti. Appoggia la fronte a terra. E qui. Appoggia l'avantaglio. Scivola come il busto. E qui allunga. Adesso. Inarca la schiena. Vieni qua tu per via. E di nuovo. Porta il bacino dietro. Vieni. Allora. Allora. Leda. Lava braccio. Porta l'opera. Leda. Scivola con il vento. Il buon tappetino. Vieni in alto. Libere estensione del busto. Ok. E comodo il buon pedia. Scendi con il bacino dietro. Pronti a terra. Ok ragazzi. Avvicina le mani. Mettile sotto le spalle. Ginocchio. Destro. Avanti. Gaba di stessa dietro. Il pezzo sul ginocchio. Allunga la capacità di spalle dietro. E qui. Stenditi lateralmente. Stenditi allungamento del giro. Ritorno. Stenditi sul ginocchio. E taglia. Stenditi dall'altra parte. Vivo. Stenditi in alto. E le mani. Ok. Ritorno. Ritorno. Ok. Ok. Pian piano. Ragazzi. Postiamo il pezzo del corpo. I talloni. Potremmo spostolare. Ok. Qui. Tallone giudeo. E dall'altra parte. Stenditi. Perfetto. E ritorna. Gamba destra. Dietro la gamba sinistra. Mando sul fianco. Tutti metti nel laterale. Giusto. E vieni. Cambia. Da l'altra parte. Ok. Ottimo ragazzi. Spingiamo le mani. E qui. Spingiamo. Le mani avanti. Inaricando la schiena. Il bacino. Vieni. La versione avanti. Quindi stendi. E ancora. Stendi. Lascia il medico braccio. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. ragazzi